Ciao ragazzi sono Chris e oggi vi parlo di questo set di chiavini o set di chiavi a brucola esagonali e set di chiavi a brucola a stella, torx, venduti alla Lidola 8,99€, 8,99€ l'uno, dove ogni confezione contiene 8 pezzi. Sono venduti in questa specie di valigetta, in questo espositore che può essere anche utilizzato come una valigetta per trasportare i chiavini o possiamo anche appenderla alla nostra parete attrezzata sfruttando appunto l'impugnatura della mano mettendo magari due gancetti, uno qua e uno qua per tenerlo in equilibrio. Ricordandoci che ci sono i chiavini anche sulla parte posteriore e che quando dobbiamo prelevare qualsiasi chiavino dobbiamo estrarlo tutto dalla nostra parete. Se non vogliamo utilizzare questa specie di valigetta o espositore ogni singolo chiavino ha il forellino per poter sfruttare i vari gancetti e metterli tutti in ordine sulla nostra parete millefori ed è bello. Vi devo dire che è bello vedere tutti i chiavini ordinati in questo modo. Va bene, avviciniamo la telecamera e vediamoli nel dettaglio. Allora, ecco qua le due versioni. 7 chiavi a brucola a stella, se ce la faccio ad inserirlo vediamo anche questo. 7 chiavi a brucola esagonali, identificati dal colore blu e dal colore rosso. Qui abbiamo le misure 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, mentre qui abbiamo le misure T10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 e 50. Le misure variano da 100 mm per i più piccoli fino a 130 per quelli più grandi. Come vi dicevo prima sono disposti su entrambi i lati. Sulla parte posteriore vediamo una descrizione molto semplice, molto semplice. Manici ergonomici per un'elevata trasmissione della forza, ideale per putti difficilmente accessibili. In pratica valigetta da 8 pezzi. Quindi come abbiamo visto prima, prendiamo questo qua. Manici ergonomici. Allora, sì, vabbè, comunque si impugna bene, ma la Parkside fa un prodotto in valigetta da 16 pezzi che a me piace di più di questo. Sono più lunghi, però come impugnatura a me piace un po' di più di questi. Oltretutto la somma dei due kit, considerando che in totale abbiamo 16 pezzi, raggiunge e supera l'importo di questo kit qua, che troverete tra i miei video. E che ha un'impugnatura, a mio avviso, più simpatica, con più grip e più curata. Facciamo una prova intanto per vedere, anche se io so com'è fatto all'interno, perché alcuni di questi purtroppo mi si sono rotti. Vediamo se il chiavino sarà una T completa col metallo che va anche da questa parte, o è il classico chiavino su cui è stata creata un'impugnatura dove questa parte è tutta in plastica. Allora, qui naturalmente viene attratto. Allora, vedete? Vediamo qui. Spostiamola piano piano. Ok, viene attratto nel momento in cui arriva vicino al centro, guardate. Qui no, qui no. È una calamita molto potente. Guardate. Ok, quindi questo conferma un po' quello che vi ho anticipato. Il chiavino fa così e così. La parte metallica fa così e così. Non va all'interno di questo manico in plastica. Infatti, il 4 e il 5 li ho rotti. Perché andavo facendo leva in questo modo, facendo più forza sulla parte in plastica e l'ho rotta. In questo caso, ormai che so che non sono resistentissimi, se devo andare a svitare, invece di mettermelo come impugnatura così, faccio così, così la forza maggiore la imprimo nel punto dove c'è la parte metallica. Allora, questa è la misura 10 ed è scritto con un'incisione sia sulla parte metallica e sia, vediamo, e sia qui, sull'impugnatura. L'impugnatura è a due tipologie di materiali. Parte nera molto rigida, plastica rigida, parte rossa è di una gomma per avere un buon grip. Vediamo la misura perfetta, non c'è nessun gioco, anzi è entrata quasi ed è uscita quasi a fatica, ho dovuto fare un po' di gioco. Anche in questo modello vediamo gli angolini smussati per entrare meglio. Vediamo la forma della pallina che purtroppo, purtroppo, è come un altro kit che ho della Powerfix. Allora, la pallina, ora vi faccio vedere il confronto con una migliore di forma, ha sempre una parte piatta che non consente un'inclinazione molto elevata. Vediamo ad esempio di prendere il 5, è la stessa cosa. Ha una forma semi-esagonale, smussata solo verso la punta, che non consente di fare un'elevata inclinazione. Allora, vi faccio vedere la differenza con un altro chiavino che non ha questa caratteristica strana della parte finale. Allora, questo è il chiavino del kit che stiamo analizzando in questo video. Guardate la poca inclinazione che ci permette di fare. Questo è dell'altro kit, quello a valigetta con 16 pezzi. Guardate la differenza. È tutto entrato. Allora, cerchiamo di tenere fermo, ok? Guardate che differenza. Questa proprio non fa nessun movimento. La differenza sta nel fatto. Allora, mettiamo sopra il chiavino del video e sotto l'altro. Allora, a video è quasi impercettibile. Però questa si avvicina di più alla forma di una pallina. Questa è più squadrato e non riesce a fare la giusta inclinazione. Vediamo ora di prendere qualche chiavino TORX. Il T25. Perfetto. Si è inserito perfettamente. Sia di qua. Che è di qua. Anzi, qua arriva in fondo. Qui entra un po' con difficoltà perché, vediamo. Ah, perché qui c'è una lievissima sbavatura sulla parte finale. Vediamo se possiamo risolvere velocemente il problema. Vedete, mi sto spazzolando anche la mano. Ok, va un po' meglio. Sì, va bene, era una leggerissima sbavatura. Probabilmente anche del rivestimento. Ok, ora va un po' meglio. T50. Da un lato abbiamo il foro. Per una tipologia di torx che non mi ricordo il nome. Ve lo scrivo qui. E qui non c'è. Gli angolini smussati per facilitare l'innesto con la testa della vita. Ok, ragazzi. Di questa tipologia di chiavi a brucola, con il manico che le rendono delle finte chiavi attivi, non come queste, con il manico tutto in metallo, perché la parte metallica va solo da un lato. Comunque, 8,99€ per uno e 8,99€ per l'altro, se ci ricordiamo sempre che il manico da una parte è tutto di plastica, vanno bene. Perché quello è l'unico punto debole. La parte metallica del chiavino è molto resistente, anche i chiavini più piccoli per piegarli ce ne vuole, anche se io sotto il 4 non uso mai. Nelle moto trovo 4, 5, 6 o 8, in alcune applicazioni particolari, vanno bene. Il prezzo è buono, li paghiamo 1,20€ l'uno circa, poco più di 1,01€ e vanno bene. Di questo modello ne ho rotti due, perché non ho fatto attenzione e ho utilizzato la parte del manico in plastica per fare la maggiore forza. Dopo quell'esperienza non ne ho rotti più, perché ho capito che dovevo fare la maggior forza mettendomi la parte sporgente in metallo. Allora, questi io li avevo comprati per appenderli alla parete. Prenderò queste due valigette, le butto e ogni singolo chiavino lo appendo alla parete. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Vi lascio in descrizione il link per vedere l'altra recensione dell'altro kit. e di altri chiavini, sempre della Parkside o della Powerfix che ho recensito in questi giorni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!